Messa a fuoco Stop Condizioniamo il foglio di stampa Un cino 24-30 Il foglio multigreddy politenato superficie perla Innestiamo i filtri, gradazione 2 Chiudiamo il diaframma a 5-6 E sponiamo Per 11 secondi Il provino l'abbiamo già fatto Ok 90 secondi di sviluppo Ecco la nostra immagine che appare già Allora, sviluppo della Bellini di Maxprint Diluito 1 più 9 E il tempo di sviluppo è tra i 45 e i 90 secondi 90 secondi di sviluppo sono terminati Adesso un minuto di arresto In acido citrico 1 più 19 Minuto di arresto terminato Passiamo nel fissaggio Fissaggio un minuto e mezzo Sempre muovendo la bacinella Fissaggio terminato E adesso Alcuni minuti Di lavaggio In acqua corrente Ok Lavaggio terminato La pellicola è una Coda T-MAS 400 Sviluppata in R09 1 più 25 Per 6 minuti E la foto è di Mario Nigler Adesso passeremo poi all'asciugatura Essendo una politenata Tra pochi minuti Il procedimento sarà Perfettamente completato Grazie a tutti